si può e si deve criticare solo quello che si conosce altrimenti si rischia di parlare per frasi fatte il cacciatore non è il bracconiere non è un delinquente ama rispetta e vive la natura cogliendo i suoi frutti la caccia una passione ancestrale che lega da sempre l'uomo all'ambiente una storia millenaria fatta di lavoro studio passione amore per la natura e cura del territorio perché solo dove c'è ambiente c'è caccia in molti ci vedono come persone cattive diverse ma nella realtà siamo semplicemente come te che ci incontri tutti i giorni e ci saluti senza nemmeno saperlo in questa società del benessere la caccia ci ricorda il ruolo dell'uomo nella natura un ruolo in cui non siamo solo consumatori ma umili fruitori e al contempo custodi di un patrimonio inestimabile siamo continuamente attaccati e calunniati perché prendiamo quello che la natura ci offre mentre in silenzio i frigoriferi dei supermercati sono pieni dell'ipocrisia dell'uomo non credere a ciò che dicono di noi vieni a conoscerci per scoprire e capire realmente chi siamo perché noi siamo cacciatori ciao sono Marco io sono l'infermiera di saloperatoria io sono un cacciatore sono Gian Carlo e faccio il commercialista e l'amministratore d'azienda io sono cacciatore sono Giulia e sono l'imprenditrice io sono cacciatrice sono Jacopo e sono uno studente universitario io sono cacciatore sono Luca faccio l'incisore io sono cacciatore sono Zurra una casalinga mamma di tre figli e sono una cacciatrice sono Stefano sono un ingegnere e sono un cacciatore sono Tiziano sono un ammaiolo sono cacciatore sono Enrico sono un libero professionista sono cacciatore ciao mi chiamo Barbara sono docente presso le scuole superiori e sono una cacciatrice sono Stefano faccio il commerciante io sono cacciatore sono Simona sono operatrice e socio assistenziale e sono una cacciatrice sono Francesca e sono darostino e sono una cacciatore io sono cacciatore io sono cacciatore io sono cacciatore io sono cacciatore E' solo la canzone